Nicoletta Cascone, prof di francese, liceo Alchimede di San Giovanni in Persiceto. Lo spettacolo è stato bello, si capiva, era comprensibile da un punto di vista linguistico, direi che i miei alunni mi confermano, molto bello, le musiche fantastiche, tutto bene, vive viva, per tutto il fatto. Sono un po' emozionata, era una volta in giro, arrivederci a guarda.